Isernia diventerà una città più attrattiva grazie a una serie di progetti avviati dall'amministrazione comunale, primo fra tutti quello relativo all'Auditorium Unità d'Italia. È stato infatti firmato l'accordo per la progettazione esecutiva del bando, contratto istituzionale di sviluppo, e nel secondo semestre del 2023 partiranno i lavori. Si tratta quindi del primo step concreto verso il completamento della struttura che prevede anche un aumento dei posti disponibili nella sala. Saranno fatti ulteriori interventi, in particolare al primo piano verrà realizzato il Museo Emozionale del Paleolitico grazie ai fondi del bando periferie e nella galleria commerciale, quella di fronte al Palazzetto dello Sport, verrà realizzato un centro di alta formazione in cui ci sarà anche uno spazio di co-working e speriamo di poter ospitare anche un centro sulla ricerca della finanza digitale. Novità in cantiere anche sulla piscina comunale, oltre 300.000 euro in ballo per renderla sostenibile dal punto di vista energetico e i lavori dovrebbero partire a inizio del nuovo anno. Speriamo di consegnare alla città a inizio 24 una piscina in grado anche di reggere i costi, gli aumentati costi energetici. Una delle cose offerte in fase di gara è stata una piscina più profonda, quindi la possibilità anche di fare la palla a nuoto fino alla Serie B e questa è una cosa importante credo per la città. E per quanto riguarda il McDonald's, punto di attrazione soprattutto per i più giovani, il sindaco spera possa aprire l'anno prossimo. In questi giorni è stata depositata la domanda per poterlo realizzare, io spero che per settembre del prossimo anno possa aprire battenti.